buongiorno io mi sono fatto una domanda riguardo al coronavirus innanzitutto da quello che capisco io che sono una persona che capisce a rilento sono un po diesel e mi sono fatto una domanda ed è la seguente come fanno a capire quindi chi ci fa che ci analizza perché poi noi noi non sono andato non ho fatto nessuna analisi ho sentito parlare dei tamponi o del test sierologico mi è parso di capire che come per l'aiz io ho fatto il test per l'aiz che si chiama elisa e fortunatamente negativo e da questo test e da questo test risulta che gli anticorpi o degli anticorpi ripeto non sono un medico sono andati a contrastare il patogeno se poi patogeno si tratti perché io ho dei conoscenti che risulterebbero essere seropositivi cioè quando fanno quando fanno le le analisi e le analisi e i loro controlli gli anticorpi vanno a contrastare questo virus quello che mi sembra strano è che uno che abbia contratto l'HIV poi sono tutti i quesiti che io mi pongo magari qualcuno mi può smettire gli anticorpi sono andati a combattere questo virus che è diventato endogeno cioè rimane nel tuo corpo vita naturale durante convive il virus col tuo corpo cioè il tuo corpo diventa la casa del virus con gli anticorpi dentro che lo combattono cioè questa la 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 no perché bisogna fare dei ragionamenti io non io non è chiara la stessa cosa per il coronavirus allora se il coronavirus è in giro da qualche parte sarà arrivato è arrivato da da quel signore che da la cina è venuto qua cioè questa è la storia no si dice che allora se per fare il test ti fanno delle analisi ti fanno dei controlli secondo i quali gli anticorpi sono entrati in funzione e da lì se si consegue se ne consegue che tu sei venuto a contatto col virus perché potresti anche non essere ammalato potresti star bene quindi potenzialmente anzi mi stupisco come non siano stati tutti contagiati dal virus perché se il virus sta in giro tutti dovremmo avere gli anticorpi che sono usciti a contrastare il virus ed è per questo che dovremmo fare tutti un controllo ma se questo virus si posa da tutte le parti perché ci intimano di indossare i guanti quindi vuol dire che il virus si posa da tutte le parti ma se noi indossiamo i guanti e il virus si posa da tutte le parti il virus è in giro nell'aria 0,08 micron vuol dire che il virus si posa anche sui nostri vestiti sulle nostre scarpe, sui nostri capelli eccetera eccetera quindi quindi su alcune persone il virus si è posato ed è rimasto lì all'esterno quindi esogeno è stato fuori e non è entrato dentro nel nostro organismo per andare ad attaccare le cellule perché questo fa il virus va ad attaccare cioè cerca di entrare nelle cellule però le cellule hanno la loro codificazione e automaticamente questo virus viene espulso chi può contrarre il virus? qualcuno che ha già un sistema immunitario ed abilitato non c'entra niente se è giovane o se è anziano allora questo è il mio ragionamento se il virus c'è dovremmo essere stati tutti accarezzati dal virus o no? o no? o no?